Comparetto Edoardo, studente in economia aziendale triennale e destinatario oggi di una borsa di studio dell'Associazione Amici della LUC. Vorrei ringraziare l'Associazione Amici della LUC poiché oggi mi è stato dato un sostegno sia in termini finanziari ma soprattutto morali. In termini finanziari poiché questo sostegno mi aiuterà sicuramente a completare i miei studi fino ad arrivare a quella che sarà la mia carriera professionale. Mentre in termini morali poiché questo sostegno mi fa credere che ci sia qualcuno che creda nei miei sforzi. Grazie.